Sindaco di Lentini, Severo Bosco, Notte Bianca, continua questa kermessa annuale che si rivede ogni anno dall'ultimo weekend di settembre. Un impegno importante ma anche fondamentale per una città che rivive. E' un impegno ormai annuale, piacevole, la città si risveglia e dimostra di avere delle esperienze da raccontare, delle associazioni che riescono a organizzarsi e a rendere ogni angolo della nostra città più bello e più visibile. Io sono contento di come sta andando, perché noi siamo nel corso della quarta edizione della Notte Bianca, sono contento che quest'anno c'è una grossa novità musicale di un grande artista che ci ha donato la sua presenza, proprio nello spirito che anima la Notte Bianca, quello di dono alla città. Lei al Fiontico dice che è una città che rivive e la sta vedendo un po' cambiata rispetto al passato. Una città che vuole tornare a rivivere i passi del passato, sapendo che non è più la città del passato e sapendo che vuole essere una città diversa rispetto a quella che è stata negli ultimi anni. Le difficoltà ci sono, però l'approccio della Notte Bianca dimostra come la collaborazione della squadra riesce a farla superare. Questo è il nostro rito, quindi questa giornata è ormai diventata sicuramente un'espetta risposta per la nostra pubblicità.